Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo che va in onda ai microfoni di Radio Pagana. Questa trasmissione, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, prendista Stragone e guardiamo dell'Anticristo e in questa trasmissione continuerò il discorso che abbiamo iniziato in una trasmissione precedente riguardanti le idee e madri nelle antiche religioni, l'abitare il mondo degli antichi e che comprende essenzialmente il concetto di resurrezione, il concetto di trasformazione della vita attraverso tutta una serie di fasi successive nelle quali gli individui costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Bene, avevamo lasciato il discorso all'interno del concetto di idee e madri che abbiamo elaborato e lo riprendiamo proprio partendo dal discorso di Christopher Dawson, l'età degli dèi e commentare un po' il suo scritto che abbiamo letto nella trasmissione precedente. Come si può notare, questo autore cristiano Dawson ha il terrore della morte. Ciò che guida il religioso monoteista nell'affrontare la vita, nell'affrontare le condizioni e le contraddizioni della vita in realtà è la paura della morte perché il cristiano non ha futuro oltre la morte del corpo fisico e il cristiano è costretto a subire i diktat del suo dio padrone ed è costretto a vivere questi diktat del dio padrone all'interno di un'angoscia un'angoscia che non sa nemmeno quando il dio padrone gliela soddisferà. In pratica, come dice Kierkegaard, il cristiano non sa mai se ha fatto abbastanza piacere o godere il suo dio padrone tanto da consentire al suo dio padrone di dargli il paradiso, di concedergli la vita eterna. Per cui la vita del cristiano è chiaramente una vita di angoscia, una vita di terrore. La morte come terrore, un concetto squisitamente ebraico e cristiano, viene esteso e messo a fondamento del uomo. Un concetto educazionalmente imposto mediante la violenza, come la paura della morte, viene spacciato come naturale dai cristiani. All'interno di questo inganno, i cristiani si apprestano a costruire delle identità e delle continuità interpretative con la loro religione. I cristiani, all'interno di questo inganno, guardano le religioni antiche e anche se sono consapevoli che la loro religione è soltanto un inganno, una truffa, una scoppiazzatura, una brutta coppia di quelle che erano le antiche religioni, loro pretendono di leggere le antiche religioni attraverso la brutta coppia che ne è il cristianesimo. I cristiani, dunque, interpretano l'antico concetto di sorgere ciclicamente in risorgere dopo il fallimento esistenziale. Nell'antica religione, la coscienza degli esseri veniva in essere attraverso esplosioni continue di modificazioni. Modificazioni che implicavano la morte dello stato precedente e il venire in essere in un nuovo stato fisico e consapevole. La natura, che si rinnovava, era un esempio di questo, come un esempio era la nascita dopo una gestazione. Il mistero di Eleusi è rappresentato dalla spiga di grano. La spiga di grano, da una consapevolezza, è generatrice di molte consapevolezze che divengono e che, a loro volta, sono il fondamento di altre consapevolezze. Inoltre, il grano viene a maturazione in circa nove mesi, esattamente il tempo della gestazione umana. La grande magia, la grande magia che porta alla morte del feto e alla nascita del bambino come la resurrezione della sua coscienza e della sua consapevolezza in un mondo nuovo e in una nuova forma. La morte era, per gli antichi, il successo per la vita. Gli esseri umani, amati dagli dèi, ricevono la morte mentre sono in giovane età, senza sopportare il dolore e l'angoscia della vecchiaia. Lo stesso Zeus punisce Esculapio per aver riportato alla vita fisica le persone morte, viene punito per aver invertito il ciclo della vita ed aver impedito a queste persone di trasformarsi in dèi, cosa che con la sua morte proprio Esculapio riuscirà a fare. La paura e l'angoscia per la fine della vita è propria della minaccia del Dio dei monoteisti. Proviamoci a leggersi cosa dice il Deuteronomio 6, 14, 16, a proposito del Dio dei monoteisti. Afferma il Dio dei monoteisti, non il Dio dei cristiani, il Dio della Bibbia, il Dio dei cattolici. Non seguite altri dèi, quegli dèi che sono adorati dai popoli che vi circondano, perché il vostro Dio padrone, il Dio vostro che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira del tuo Dio padrone, il Dio tuo, si accenderebbe contro di te e ti sterminerebbe dalla faccia della terra. Non tentare il tuo Dio padrone, il Dio vostro, come lo provocaste a massa. Deuteronomio 6, 14, 16 Non esiste per gli ebrei un futuro oltre la morte, né esiste una vita che abbia onore per chi la vive. Esiste solo una vita di sottomissione e deferenza al loro Dio padrone, Un concetto ripreso dai cristiani, i quali aggiungono la risurrezione della carne come premio, come carota, per gli asini che li seguono. Dal momento che il concetto di risurrezione esiste negli antichi, essi vi aggiungono la risurrezione nella forma, unica forma di esistenza che concepiscono, cioè la rinascita nella carne. Così il loro Dio profeta risorge nella carne e nella carne sale al cielo. E' quella speranza illusoria che prima illude Paolo di Tarso e che Paolo di Tarso poi predica in giro per tutta la Palestina e poi lo disillude rendendolo desideroso della morte del corpo fisico quando diventa consapevole del fallimento della propria esistenza. Nelle religioni antiche la resurrezione era concepita come trasformazione continua del presente. Così a questo autore cristiano appare inconcepibile che il divino con cui l'uomo interpreta la natura è il divino stesso dell'uomo. Non si tratta della natura che ispira l'idea religiosa nell'uomo, ma è l'uomo da cui nasce la relazione religiosa col mondo che interpreta il mondo attraverso i suoi desideri della sua libido che si dispiega nel mondo. Ressurrezione come trasformazione della coscienza, risurrezione come risultato delle sue relazioni libidiche col mondo e sessuali nella società, risurrezione come trasformazione continua della coscienza nelle relazioni del mondo. Dal divenuto dell'uomo all'interpretazione dell'uomo delle relazioni emotive col mondo in cui vive. Così questo scritto, ho scritto il Dawson, non fa altro nella sua contradditorietà che esprimere il movimento religioso dell'uomo antico in contrapposizione al movimento religioso del monoteista ebreo e cristiano. Mentre nell'antica religione l'uomo partiva da se stesso per interpretare il mondo e così descriveva le emozioni delle sue relazioni col mondo in forma umana, nel monoteismo l'uomo partiva dalla patologia che attribuiva al suo padrone per interpretare se stesso la sua verità. Lo stesso concetto di madre veniva deturpato dal cristianesimo. Da un lato il cristianesimo lo aggiungeva all'ideologia ebrea e dall'altro lo rubava stuprandolo dalle antiche religioni. Per il cristianesimo la madre era la prostituta che declama il Magnificat in onore del suo fruitore. Non ha nulla a che vedere con la vita. Non è Demetra che cerca Persefone. Non è Latona che cerca il luogo in cui partorire la bisossualità dei viventi. Non è Temi che partorisce le relazioni fra gli esseri. Non è Mnemosine che partorisce le vie affinché gli esseri umani generino l'arte. Non è Semele che partorisce le trasformazioni degli esseri per diventare dei. Non è Demetra che partorisce le condizioni della vita stessa, della vita in sé. Maria è la prostituta che recita il Magnificat in funzione di chi trasforma il suo utero in un oggetto d'uso. Un oggetto d'uso che diventerà dogma nell'intero cristianesimo. La prostituzione sacra nelle antiche religioni era un inno alla vita, del momento che non esisteva in nessuna civiltà antica il controllo delle persone attraverso il controllo del loro sesso, della loro sessualità. Non esisteva il controllo delle persone attraverso la razza. Non esisteva il controllo delle persone attraverso il sangue. Per capire l'orrore del concetto di prostituzione inteso come rinuncia alla propria personalità per trasformarsi in un corpo senza desiderio, passione e intelligenza introdotto dai cristiani, leggiamo cosa ci racconta John Allegro nel suo Fungo Sacro e la Croce. La stella del mattino e della sera è naturalmente venere. Per valutare l'influenza di questo astro sul Fungo Sacro dobbiamo cercare di comprendere la posizione del sistema astrale come era conosciuto anticamente e il potere fecondativo che gli si attribuiva. Ogni mattina, prima che il Dio Sole ritraesse il suo pene dalla guaina vaginale della Terra, un rivale del Padre Celeste scivolava dalla camera nuziale e annunciava l'alba. Questa stella è seconda soltanto al Sole e alla Luna per fulgidezza e usurpa un po' della loro gloria, illuminando l'Oriente al mattino e trattenendo il velo della notte fino al sorgere della Luna. Questa stella è chiamata Venere, Giunone, Iside o Afrodite. Ecco cosa ne parla, ecco come ne parla Plinio. Prima che il Sole volga una grandissima stella chiamata Venus, che varia alternativamente il suo corso in cui diversi nomi indicano di per sé stessi la sua rivalità col Sole e con la Luna, quando sorge, precedendo l'alba prende il nome di Lucifero, essendo un altro Sole e portando la luce, mentre quando brilla dopo il tramonto è chiamata Vespero perché prolunga la luce del giorno e fa le veci della Luna. Inoltre, essa supera in grandezza tutte le stelle, getta un'ombra dai suoi raggi, di conseguenza c'è una grande gara dall'un nome, avendola qualcuno chiamata Giunone, altre Iside, altre la madre degli dèi. Questo è ciò che dice Plinio. Come oggi siamo in grado di comprendere i loro nomi per stella, ci racconta Allegro naturalmente, dimostra che gli antichi raffiguravano questo astro come un pene nel cielo, la sua luce era vista fantasiosamente come lo scintillio della corona infuocata dal grande. A tutta prima potrebbe sembrare quindi strano che alla stella più potente fossero stati dati nomi femminili, come Venere e Giunone. Il riferimento comunque è al suo potere creativo, procreativo. Quando questo pene celestiale minore scivola via dalla dimora coniugale, prima del suo maestro gocciola ancora gli umori del grembo celeste. Questa visione che ci racconta Giunone Allegro nel fungo sacro della croce, in realtà è una visione che è abbastanza coerente con l'insieme delle antiche religioni. Giunone Allegro comunque dà il via a un tipo di studio, a un tipo di studio in relazione alle antiche religioni sumeri, che ci apre una visione precisa rispetto agli dèi, al di là poi di quante ragioni possa avere e di quante cose verranno confermate in seguito delle sue ricerche. Naturalmente queste parole di Giunone Allegro, scritte nel 1970, uno studioso di antichi sumeri che ne interpreta sia pure in modo suo il mito, un'interpretazione che piaccia o meno ha il respiro della libertà. Se quella libertà cerchiamo di comprenderla e confrontarla col desiderio di prostituzione e stupro delle persone, che sta alla base del cristianesimo, allora apriamo Filone di Alessandria. C'è un errore in questo scritto. Filone di Alessandria, un anello di congiunzione fra il neoplatonismo cristianesimo e l'ebraismo. E prendiamo il paragrafo 32 di Filone di Alessandria del mutamento dei nomi e vi ricordo che questo scrittore in realtà è un precursore del cristianesimo, è un tardo ebreo e influenzia moltissimo il neoplatonismo e le interpretazioni religiose antiche. Dice Filone di Alessandria Lo spirito attaccato al piacere, nutrito di queste speranze, non si è contenta di addescare con gli allettamenti delle passioni più giovani, che da poco si stanno addestrando agli esercizi della temperanza, ma si ritiene sconfitto se non riesce a depravare la razionalità più matura nella quale la furia delle passioni si è acquietata con il passare degli anni. Faraone, spacciando dei danni per vantaggi, dice subito dopo Prendete vostro padre quanto vi appartiene e venite da me. Genesi 45, 18 Ossia sulla terra d'Egitto e dal suo terribile re, il quale si accaparra, deviandoli in direzione contraria, i nostri beni paterni, che hanno una loro consistenza reale una volta che si siano staccati dal corpo, perché per loro natura sono liberi, costringendoci a rinchiuderli in un amarissimo carcere alla cui custodia ha preposto, come dice il libro sacro, putifarre l'eununco capo cuciniere. Genesi 39, 1 Questo è un eunuco che manca di ogni bene e che è stato mutilato dagli organi genitori dell'anima e non è più capace di seminare e coltivare alcuna cosa che sfoci una disciplina educativa. Inoltre la maniera di un cuoco uccide degli esseri viventi, li taglia pezzi, li smembra e si muove in un roviglio di carcasse prive di vita, non tanto in senso materiale quanto in quello spirituale e con i suoi imbandimenti volutuari stimola e stuzzica gli impulsi di interminabili passioni che sarebbe invece ragionevole calmare e placare. Faraone dice ancora Io vi darò tutte le cose buone dell'Egitto e voi mangerete quel che di meglio produce questa terra. Genesi 45, 18 Ma questa sarà la nostra risposta. Noi non abbiamo visto i beni dell'anima, non accettiamo alcun bene del corpo, perché il desiderio ardente di quei beni, ormai sradicati in noi, basta farci dimenticare tutto ciò che è caro alla carne. E questo modo di vedere le cose, questo modo di vedere e interpretare la vita, chiaramente è a fondamento sia del neoplatonismo, sia del cristianesimo, sia dell'ebraismo. In pratica si condanna il corpo, si distrugge il corpo, si afferma che il corpo non ha tutti questi diritti di imporre a se stesso e si esalta l'anima, si esalta uno spirito che si ritiene staccato dal corpo, dimenticando invece che è il corpo che genera quello spirito. Ed è l'odio per il corpo e per la sua sessualità che chiude a Filoni di Alessandria e ai cristiani, agli ebrei e ai neoplatonici, la possibilità di vivere abitando nel mondo col loro corpo. Li costringe a coltivare l'illusione di uno spirito alle cui aspettative si riassumono le patologie psichiatriche di negazione della vita. La negazione della sessualità che imporranno agli esseri umani, devastando le società civili, gli porterà a negare gli dèi degli antichi. Negarli, al di là di come le persone, educate in un ambiente cristiano, tenderanno ad interpretarli e a pensarli. Ma gli dèi sono là e chiamano i corpi dell'essere natura alla vita. Li chiamano a vivere. E in effetti noi possiamo leggerci da Umberto Galimberti, Il Corpo, edizione Feltrinelli, ciò che scrive Galimberti. Scrive Galimberti Come apertura originaria sul mondo, il corpo è trascendenza. Non è un oggetto raccolto nell'immanenza della sua inseità, ma è un immediato sbocco sulle cose. In sé è solo un cadavere, dove l'occhio che non vede, la gamba che non cammina, il cuore che non batte, sono oggetti, cose che non hanno più alcuna parentela con il corpo. Nel cadavere la mano rivela se stessa, mentre nel corpo rivela gli oggetti che tocca, la loro resistenza, l'avversità alle cose. Nel cadavere l'occhio non vede, è visto, da oggetto di sguardi distratti o profondi, annoiati o intensi, diventa semplicemente oggetto di osservazione. A differenza del cadavere raccolto nel suo in sé, il corpo è subito fuori di sé, aperto al mondo, proteso sulle cose. L'occhio non vede sé, ma le cose del mondo, senza mondo, non ci sarebbe una vista. D'altra parte la vista non è determinata dall'esterno, attraverso quel complicato itinerario di specie espresse, così minutamente descritto da Tommaso d'Aquino e dalle contese mediovali, per semplice ragione, che nulla determina il mio corpo dall'esterno, non perché nulla lo solleciti, ma perché da subito il mio corpo è fuori di sé e aperto al mondo. L'itinerario della specie si giustifica sulla base di un'esteriorità, che invia i messaggi ad un'interiorità che li accoglie, ma questa non è la mia esperienza del corpo, perché il corpo non dimora in sé, ma fuori di sé, proteso nei suoi atti, nelle relazioni con il mondo. Dalle cose del mondo ho la consapevolezza della potenzialità del mio corpo, perché le cose si riversano delle sue azioni. Ho la posizione degli oggetti tramite quella del mio corpo, non per una deduzione logica, non come si determina un'incognita tramite le sue relazioni oggettive con grandezze date, ma per un'implicanza reale, perché il mio corpo, lungi dall'essere un oggetto in sé, è protensione verso il mondo, e il mondo è il punto d'appoggio del mio corpo. Le relazioni che il mio corpo, aperto al mondo, dispiega, fanno del mio corpo l'origine di tutte le trascendenze, e da questa origine il corpo esprime un logos più profondo di tutti i rapporti logici percettivi che un cogito astratto può dispiegare. Per questo scrive Morleau-Ponty, la prima verità è sì, io penso, ma a condizione che con ciò si intenda, io inerisco a me, inerendo al mondo. Ecco perché gli uomini possono scrivere. In il primo legame era stabilito quindi con la morte della natura, ma i misteri comprendevano anche un matrimonio sacro e l'annuncio della nascita di un divin fanciullo, la resurrezione del seme a primavera. La stessa Eleusi era di origine micenea, non ve dubbio che questi riti rimontassero in parte alla civiltà preellenica. La Grecia preistorica rientra infatti anch'essa nell'ambito di quell'antica religione della vegetazione che perfino nei tempi storici sta alla base del culto ufficiale di stato del Panteo Olimpico. La Dea Madre si presenta sotto una molteplicità di forme e di nomi, come il suo prototipo babilonese ista, che era ad un tempo Dea della città e Dea della guerra, dell'agricoltura, Dea della natura, non domata, Dea Vergine e Dea dell'amore sessuale. Purtroppo per questo scrittore Christopher Downson era la guerra, era l'agricoltura, era la natura, era l'amore sessuale e non la Dea di, abbiamo già detto nell'altra trasmissione. In Grecia abbiamo Atena, la grande Dea della città, la Vergine guerriera Artemide, la Cacciatrice, Afrodite, la Dea dell'amore e un'infinità di altre figure semidimenticate come Britomartide e Dictinna, Arianna, Atlanta, Ino, Passifai, che risalgono tutte alle visioni e interpretazioni di possibili altre tante Dee e Madri che naturalmente concorrono alla formazione della vita. Ma come possiamo vedere, da un lato abbiamo il monoteismo, il cristianesimo, l'ebraismo, che negano l'essenza del corpo attraverso l'esaltazione di un Dio che fa della distruzione del corpo, del possesso del corpo, l'essenza stessa della sua esistenza. Tant'è non seguita altri Dei, dice, altrimenti io vi ammazzo tutti, vi ammazzo come bestie, dice il Dio dei cristiani e degli ebrei. Voi siete solo bestiame, se voi adorate un altro Dio, io vi ammazzo tutti, vi faccio vivere nell'inferno. E in effetti l'ebraismo ha costruito questo inferno. Ma questo inferno è stato costruito anche da personaggi come Filone di Alessandria, il quale Filone di Alessandria è prima di lui naturalmente Platone che costruisce quella differenziazione fra corpo e spirito, fra corpo e anima. E i neoplatonici come Ermete Trimegisto, per Ermete Trimegisto come i misterici, i neoplatonici e tutti gli altri che fanno la divisione fra un corpo e un'anima in realtà costruiscono l'inferno della vita, costruiscono la distruzione dell'uomo perché? Perché costruendo quella distinzione fra corpo e anima noi abbiamo la possibilità di uccidere tutti i corpi perché tanto l'anima torna a Dio in quanto immortale. Cioè possiamo usare camere a gas, mettere dentro tutta la gente, ammazzarla tutta perché tanto le loro anime tornano a Dio. Cioè non si distrugge la creazione divina. Mentre invece essendo i corpi, essendo i corpi ciò che vive nel mondo, ciò che esprime la psiche, ciò che esprime l'anima, l'anima non è un qualcosa in sé, ma è una manifestazione del corpo vivente che vive nel mondo. È il corpo, il nostro corpo, il corpo con cui amiamo, il corpo con cui tocchiamo, il corpo con cui lavoriamo, il corpo con cui facciamo l'amore, il corpo con cui mangiamo, che costruisce le nostre psiche, le nostre emozioni. Ebbene, uccidere il corpo, meno male il corpo, fare un'azione nei confronti del corpo per chiudere a quel corpo il suo futuro, il suo futuro della vita, significa distruggere la vita stessa. Ed è quello che ci racconta Galimberti nel suo Il Corpo, nel suo libro una ventina di anni fa, trent'anni fa, credo che l'abbia scritto. Ebbene, questa differenza che noi abbiamo ci fa comprendere come il monoteismo abbia il terrore della morte, perché quando tu neghi il corpo, quando tu neghi la centralità del corpo della vita, non hai più nulla per affrontare la morte, perché la morte l'affronti col tuo corpo, è la morte del tuo corpo, è il tuo corpo che ha vissuto, è il tuo corpo che è stato appassionato. E la risurrezione degli antichi era la risurrezione di corpi, erano corpi luminosi, erano corpi di energia, erano esseri che si trasformavano in dei attraverso le loro passioni, attraverso le loro azioni, attraverso le loro sfide, attraverso il loro impegno. E le dèi madri erano coloro che costruivano corpi che si trasformavano in dei, esseri della natura che avevano il loro percorso eroico, il loro percorso virtuoso, che sapevano vivere con onore, anziché col disprezzo che ha imposto l'ebraismo, che ha imposto il cristianesimo, che ha imposto l'Islam agli uomini, distruggendo di fatto la loro vita. Ebbene, tutto ciò che libera l'uomo e ne dispiega le potenzialità nella realtà in cui vive. Si chiama libertà. La libertà non è mai uguale a se stessa. La libertà non è un oggetto in sé definito e fissato, ma è una tensione divina che si muove negli esseri di ogni specie della natura. È una forza, una tensione, un dio, che spinge affinché gli esseri rimuovano gli ostacoli che impediscono loro di costruire loro stessi. Noi e il mondo siamo una cosa sola. Noi e il mondo siamo padri, madri, figli. Siamo legati uno con l'altro in maniera indelebile e siamo legati non solo perché siamo venuti in essere, ma siamo legati in ogni trasformazione che noi facciamo nell'infinito. Senza il mondo noi non saremo, senza il corpo noi non saremo, senza le infinite madri noi non saremo, senza essere infiniti padri che hanno costruito le condizioni le quali noi generiamo noi non saremo. Per questo padri e madri sono dei, per questo noi abbiamo una possibilità per trasformarci in dei. Al mondo partecipiamo col nostro corpo, col mondo costruiamo le relazioni attraverso gli dei che formano il nostro corpo con quegli stessi dei in ogni corpo che si manifesta nel mondo. Per questo può essere fatta nostra la frase di Marlowe Ponti riportata da Gallimberti. La prima verità è sì, io penso, ma a condizione che con ciò si intenda io inerisco a me inerendo al mondo. Pertanto ricordatevi che la cosa più importante è vivere per trasformarsi in dei. Ed è per questo, vivendo per trasformarsi in dei, che noi possiamo riconoscere gli dei nel mondo che ci circonda. Ed è per questo che siamo pagani puliteisti. Bene, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stragone e guardiano dell'anticristo e con questa trasmissione ho chiuso il pezzo, la seconda parte, di Le Dei e Madri delle Antiche Religioni, abitare il mondo degli antichi opposto al dominare il mondo dei cristiani e dei monoteisti. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stragonaria e Paganesimo. Vi ricordo che su internet trovate tutto, tutto quello che stiamo usando qui come testi e naturalmente c'è anche la televisione pagana dalla quale potete vedere in questo momento. Ci sono circa 25 ore di trasmissioni che girano in continuo e si ripetono spostandosi un po' nel tempo. Ciao a tutti e a ricentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stragonaria e Paganesimo. Ciao.